Buongiorno a tutti, questo video per illustrarvi una operazione di trading che ho appena concluso sul mercato italiano, il Future Fuzzimib, il nostro FIB, oggi mercoledì 23 marzo. L'operazione è stata eseguita grazie all'indicatore Confluenza, che è un indicatore proprietario di mia creazione, ma disponibile anche agli abbonati che ne facessero richiesta, le informazioni le potete trovare sul mio sito internet www.strategieditrading.it, l'indicatore viene messo qui nella parte bassa del grafico, come evidenziato, è composto, costituito da histogrammi verticali che possono assumere tre tipi di colorazione, una colorazione verde, non è questo il caso, ma diventa verde quando c'è da aprire una posizione long, diventa rossa invece come in questo caso quando c'è da aprire una posizione short e invece assume colorazione giallo quando la posizione da assumere è flat, cioè senza posizione, o meglio bisogna chiudere la precedente posizione long o short che sia. Cosa è successo questa mattina in particolare? Che all'ora delle 12 e 15 l'indicatore Confluenza è diventato rosso, in precedenza era verde e poi è diventato rosso, questo mi dà indicazione che bisogna aprire una posizione short e quindi in apertura della candela successiva sul livello 23.835 sono entrato in posizione short e quindi movimento ribassista. Il mercato effettivamente è sceso lentamente ma è sempre costantemente sceso, tant'è che l'indicatore di 5 minuti in 5 minuti, visto che questa è la scansione temporale del grafico, intraday si è sempre mantenuto rosso e quindi ho sempre mantenuto la mia posizione long fino alle ore 15 quando l'indicatore è diventato giallo che mi dice entra in posizione flat o meglio chiudi la precedente posizione short e quindi anche qui in apertura della candela successiva sul livello 23.700 ho chiuso la mia posizione short, quindi short da 835 a 700 sono 135 punti realizzati in circa tre ore di negoziazione per un controvalore lordo di 675 euro. Questa è la mia prima operazione della giornata, poi vedremo nel pomeriggio e come si evolverà il mercato e che altre indicazioni mi darà appunto il mio indicatore confluenza. Grazie a tutti per l'attenzione e buon trading!